Ciao amiche, ciao amici, questo video per parlare sempre delle connessioni della scoperta dei buchi neri, delle onde gravitazionali, delle onde gravitazionali che in qualche modo vanno a dimostrare l'esistenza dei buchi neri. Intanto cosa sono i buchi neri? I buchi neri sono delle parti dello spazio-tempo con una curvatura completa, cioè è un buchi se noi immaginiamo lo spazio con masse diciamo piccole, più o meno lineare, in realtà ci sono delle curvature che vedremo, che vengono certificate dalle onde gravitazionali ma non sarebbero percepibili, in presenza dei buchi neri si ha una contrazione completa dello spazio-tempo per cui lo spazio-tempo diventa ricurvo su se stesso, come fosse ad esempio questo cilindro e quindi il tempo non esiste più all'interno di un buco nero, la dimensione temporale non esiste più, un po' come non avrebbe neanche tanto senso dire che il tempo è fermo, potremmo dire che il tempo non esiste perché è curvo su se stesso, è come diciamo un criceto che corre, corre, corre nella ruota ma resta sempre nello stesso posto. e questa curvatura dello spazio-tempo è dovuta alla massa, semplicemente alla massa, il buco nero infatti nasce da un collasso di stelle che dopo una parte di espansione si contraggono, si contraggono, si contraggono, si contraggono e contraendosi aumenta sempre la densità di massa e aumenta quindi la curvatura dello spazio-tempo fin tanto che questa curvatura diventa una sorta di sfera, quindi è come se ci fosse un isolamento di universo, si chiama nero perché la luce gira in tondo siccome lo spazio è sferico e non esce mai fuori. In realtà diciamo Stephen Hawking ha preso proprio il Nobel per dire che per effetti quantistici dei fotoni possono uscire fuori dal buco nero. L'effetto quantistico è dovuto al fatto che noi non sappiamo mai esattamente la posizione precisa del fotone, per cui ci sono dei fotoni che escono fuori. Questa radiazione, che prende il nome di radiazione di Hawking, è quella che è frutto il Nobel a Hawking, diciamo così, e quindi anche il buco nero in realtà non è completamente nero, ha delle emissioni, però questa curvatura dello spazio-tempo, diciamo, va a deformare completamente il concetto di tempo. I buco nero in realtà non sono mai stati scoperti, sono stati teorizzati, quindi la certezza che ci fossero, si pensa che al centro della nostra galassia ad esempio ci sia un enorme buco nero, proprio perché ci sono dei rilievi che, della luce, il buco nero, nelle vicinanze al buco nero, essendo forti le curvature dello spazio-tempo, se hanno delle curvature potenti dei raggi di luce, per cui attorno ad alcune stelle si vedono proprio degli aloni di luce, perché passa la luce, viene riflessa passando in prossimità di un buco nero. Quindi verifiche indirette ce n'erano, però questa misura delle onde gravitazionali la certifica proprio perché le onde gravitazionali senza la presenza di buchi neri non sarebbero percepibili. La massa enorme del buco nero, si pensa che queste onde gravitazionali che sono state rilevate siano proprio dovute alla fusione di due buchi neri, quindi all'incremento notevole di massa che ha generato quindi una deformazione nello spazio-tempo che si è propagata fino a raggiungere noi, andando a deformare proprio lo spazio-tempo, accrociandolo nella direzione diciamo legata proprio alla propagazione dell'onda. E quindi diciamo questa scoperta delle onde gravitazionali, oltre a dimostrare appunto che lo spazio-tempo non è lineare, ma che possiamo modificarlo, possiamo manipolarlo. Ho parlato in un altro video quindi della possibilità ad esempio teorica per ora di fare viaggi nello spazio-tempo. Noi già in realtà siamo viaggiatori dello spazio-tempo, ci muoviamo in uno spazio tridimensionale liberamente e temporalmente verso il futuro. Però fare viaggi nello spazio-tempo significa utilizzare tutto il territorio dello spazio-tempo, quindi anche territori che per noi per ora sono ignoti, come il passato e il futuro. Cioè il passato viene ricordato nel memoria, però non abbiamo possibilità di accedervi fisicamente, diciamo così. E quindi queste scoperte legate alle onde gravitazionali possono aprire degli scenari interessanti, anche se per ora è tutto un territorio da esplorare fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto metti un like e poi condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!